Ritratti e paesaggi dalla Lituania in mostra a Venezia, a Palazzo Ferrofini, dove sono esposti gli scatti a colori e in bianco e nero di due fotografi vicentini, Silvano Chiappin e Claudio Dalle Nogare, reporter in terra lituana in anni diversi. La mostra documenta l'evoluzione di un paese che per primo ha rotto la propria dipendenza da Mosca e che ora fa parte dell'Unione Europea, tanto da guadagnarsi il titolo di Capitale Culturale d'Europa per il 2009, ma sigla anche i rapporti di amicizia nati tra Veneto e Lituania, fatti di relazioni economiche e di solidarietà. Gli imprenditori veneti, come ha ricordato il presidente del Consiglio regionale, Marino Finozzi, sono stati i primi a investire nella Lituania democratica e i primi a sostenere con propri fondi e iniziative associative la nascita di case di accoglienza per i tanti bambini lituani rimasti senza famiglia.